Ciao a tutti, sono Veronica Scotto e sono un'ex studentessa del Liceo delle Scienze Umane, Opzione Economico e Sociale dell'ISGALILEI di Chiesi. Sono diplomata da ormai tre anni, ma il mio percorso inizia ben otto anni fa, con la scelta della scuola superiore. Una scelta sicuramente difficile, ma mossa dalla volontà di approfondire quelle che erano le mie aspirazioni, ovvero conoscere meglio l'ambito sociale e giuridico. Sociale perché tutto ciò che è relazione con l'altro e aiutare l'altro mi ha sempre appassionata e allo stesso modo conoscere ciò che ci circonda, quindi ciò che è puro diritto e pura economia. Questo percorso del Liceo mi ha permesso di approfondire questi ambiti e mi ha permesso anche oggi di laurearmi in servizi sociali, quindi la passione, trasmessa anche dai professori che comunque sono sempre stati ottimi e vicini all'alunno più di quanto si possa pensare, mi ha permesso appunto di trovare la mia strada. Questo istituto non è solo teoria, ma ha anche pratica, ci ha permesso di metterci in gioco più volte, ma in particolare vorrei portarvi l'esempio che potrete anche trovare sul canale YouTube dell'istituto sotto il nome di Smile Life Ollus, di un progetto che con la professoressa di diritto abbiamo fatto con Banca Marche, che aveva creato una competizione a livello regionale e poi nazionale della creazione da parte di noi alunni di un'associazione no profit, quindi senza scopo di lucro, attraverso un business plan e comunque una creazione appunto ovviamente fittizia, ma veritiera di questa possibile associazione che poi sarebbe potuta crearsi qualora avessimo vinto. Purtroppo non siamo riusciti a vincere a livello nazionale, ma ci siamo fatti valere a livello regionale, vincendo un soggiorno a Roma per tre giorni. Sicuramente questa è stata un'esperienza che ci ha unito sia come classe sia anche come professori, perché ci sono stati molto vicini e ci hanno permesso di crescere. Quindi ad oggi posso solo portare un'esperienza positiva dell'istituto e posso consigliarvelo all'infinito, in quanto appunto perlomeno a me ha permesso di trovare la mia strada per la vita e soprattutto i professori. Non posso far altro che ringraziarli perché ci sono stati vicini veramente al cento per cento. Quindi spero possiate fare la vostra scelta migliore e vi mando un bacio. Ciao!